Nell'organizzare questa rassegna abbiamo ottenuto il patrocinio di due importanti realtà che operano nel settore dell'archeologia, ovvero la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Catania e la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto. Proprio la Rassegna di Rovereto ci ha concesso in proiezione due documentari prodotti dal Museo Civico, uno tracce su Paolo Orsi e l'altro l'Aquila e il Serpente. Nella serata conclusiva, quella di sabato, avremo l'onore di proiettare un importantissimo film, Coul Farah, che nell'edizione del 2011 della Rassegna di Rovereto ha vinto il premio Paolo Orsi assegnato da una giuria tecnica. L'auspicio è che questa rassegna possa avere un seguito, possa avere tantissime edizioni perché Ligodia e Ubea è una bellissima location che si sta prestando a questo importante evento e crediamo che abbia tutte le carte in regola per farlo. Per cui ci auguriamo che il pubblico sia numeroso e che possa accogliere con benevolenza questo nostro impegno.